Ragazzi si ritorna, si ritorna a vincere Prima partita, prima partita di campionato, primo momento Iguain quando gioca segna sempre Iguain Iguain, Iguain, Iguain Quando gioca sempre segna Iguain Ha segnato quest'uomo, Gonzalo, Iguain Iguain Primi tre punti a casa, ragazzi Primi tre punti a casa, Fiorentina a casa Iguain batte 2-1 la Fiorentina Facciamo subito subito perchè la batteria si scarica Iguain domina il primo tempo e passa in vantaggio proprio Semi chiedira Poi pareggia quel giocatore da Fiorentina e Chianic Non so dire E poi se chiedete chi segna Gonzalo Iguain Tanti fegri scoppiati a Napoli Salutate Iguain Questa vittoria della Juve, prima vittoria firmata Non solo, ma comunque Consalo Iguain Che ha impegato 8 minuti e 26 secondi Dall'ingresso in campo Guarda le gol di Consalo 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 Iguain in agguato Una zampata la sua In controvanzo per dare gol del 2-1 Salve, ci vediamo al prossimo video Grazie Diamo Grazie Grazie.